Allora 5 minuti e si presentino le bianche 66 kg per fare la finale Foglia e Baracatti. Allora 5 minuti e si presentano le bianche 66 kg per fare la finale Foglia e Baracatti. Allora 5 minuti e si presentano le bianche 66 kg per fare la finale Foglia e Baracatti. Allora 5 minuti e si presentano le bianche 66 kg per fare la finale Foglia e Baracatti. Allora 5 minuti e si presentano le bianche 66 kg per fare la finale Foglia e Baracatti. Leonardo e Proietto Valerio Urbano Proietto al tappeto 4. Tatami numero 2. Spano Cristian vice Andolo Riccardo.